un bello panuzzo che la mia non si è arrivato a Parigi che c'è? ma il mio panuzzo è qua c'è? che? quasi quasi ci ritorno di nuovo a mangiarmi un bel panino con la misa questa volta ve lo mangio qui a dove siamo qua? a Las Vegas buonissime un po' di limone a favorire ecco, non mi facciamo un pano da mia, non mi facciamo un po' di limone? no, non mi faccio Grazie a tutti.